La Regione smentisce la notizia della nomina di Rinaldo Tordera a manager della ASL numero 1 Avezzano sul Mona L'Aquila, apparsa sulla stampa di oggi. La decisione del nuovo direttore generale della ASL provinciale dell'Aquila non è stata presa e nessuna riunione di giunta è stata fatta in tal senso. Si esprime così il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli sulla questione della nomina del nuovo manager dell'azienda sanitaria locale numero 1. La poltrona, ricordiamo, è vacante dopo le dimissioni di Giancarlo Silveri annunciate all'inizio dello scorso mese di dicembre ed effettive da fine anno. La giunta regionale è chiamata a decidere entro fine febbraio. L'assessore della sanità Silvio Paolucci ha comunque annunciato la nomina entro questa settimana, ma il tutto potrebbe slittare a martedì prossimo considerando che il presidente Luciano D'Alfonso fino ad oggi pomeriggio non sarà in Abruzzo. E' in atto una discussione, ma non abbiamo deciso nulla. Stiamo valutando vari tecnici, ha detto Lolli. Non è stata convocata la giunta che si farà martedì prossimo, a margine del consiglio. Tra i nomi papabili ricorrenti c'è quello dell'ex direttore generale della Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, Rinaldo Tordera, presidente attuale dell'azienda di servizi municipalizzata SM del comune dell'Aquila e amministratore delegato della società regionale sviluppo Italia, Abruzzo. Tordera non figura nell'albo degli idonei in Abruzzo, ma in quello della Lombardia, dove però non ha superato la seconda prova per entrare nella cosiddetta short list di 200 persone, anche se rientrerebbe comunque tra gli 800 idonei. in questa considerazione di parte e sull'occhio, perché di lei circa un incontro come un impatto che non sta legge a risi, non chiedono con un maquare lo sul, ma palla, sui di una coinvolta che uno ha esperto, un po' di essere nato non è per la costa di credenza e mi chiede, quindi non è diventata, però non è per il problema, perché è psicofaglio, è successo fare la cittina e la possibilità che non va bene, cosa è chiedere della propria, cosa è importante? Perché è un momento in cui magari sia un'occhio, vorrei essere una situazione, sia un momento in cui è che c'è chi lo Grazie a tutti.